Ciao a tutti, anche oggi ben ritrovati sul mio canale, io sono Fio. Dunque, la storia di oggi l'ho scelta perché mi ha davvero colpita. È una storia di solitudine profonda, quella dell'anima, e di rapporti familiari che definirai devastanti, cioè non umani, disumani. Ma non è nemmeno una storia che parte sparata con la violenza, particolarmente scioccante o cruenta, ecco, non lo è. Ed è questo il motivo per cui l'ho scelta, perché in realtà mi ha lasciato proprio l'amaro in bocca. È una storia diversa dal solito e molto triste. Ma partiamo subito, io sono Fio, questo è il mio canale. Benvenuti o bentornati. La prima protagonista che vi presento si chiama Giuseppina ed è una donna dalla vita sicuramente segnata e tormentata. Prima di raccontarvi della sua infanzia però ci fissiamo sul momento decisivo della sua vita. Ci troviamo a Bologna dove Giuseppina incontra l'uomo che diventerà suo marito. Giuseppina fa la massaggiatrice di professione e tra i suoi clienti inizia a trattare Mario. Tra i due nasce una simpatia da subito. Mario ha bisogno di molti trattamenti, quindi gli incontri sono frequenti e si crea una certa intimità che va oltre il professionale. Quindi iniziano ben presto a frequentarsi e poi si fidanzano. Giuseppina ha origini venete ma poco la lega a casa sua, quindi ha tutti i motivi per trasferirsi a Bologna e così fa. E questa è la decisione che più di tutte segnerà la sua vita. Ora però torniamo indietro all'infanzia di Giuseppina perché è determinante per capire tutto quello che avverrà dopo. Giuseppina nasce in Svizzera dove i genitori sono emigrati ed è la prima di due figlie. Il padre lavora in una fonderia in Svizzera e la madre in una fabbrica di lacche e profumi. Successivamente, come spesso avviene, la coppia decide di rientrare in Veneto a Schio, che è il paese di origine del padre e qui Giuseppina cresce. È una bimba bellissima, con il caschetto castano e grandi occhi celesti. È una bimba anche serena e vispa. Crescendo rimane una ragazza splendida, molto bella, proprio esteticamente, con questi occhi azzurri che fanno girare molte teste. Infatti ha tantissimi corteggiatori Giuseppina e riceve tanti apprezzamenti. Fino a qui nulla da segnalare di particolare. Una vita tranquilla. A 21 anni si trasferisce dopo una piccola delusione d'amore a Londra per qualche mese e quando ritorna in Italia la sua vita cambia drasticamente. Da qui nulla sarà più come prima. Sua madre si ammala di sclerosi multipla a placche e va acudita costantemente. La malattia avanza velocemente, trasformandola. E come se non bastasse, come se non fosse abbastanza, anche il papà di Giuseppina si ammala poco dopo, di cancro ai polmoni. Quell'anno sarà davvero durissima e l'unica cosa che si respira in casa è disperazione e malattia. A soli 22 anni, quindi l'anno dopo, Giuseppina si ritrova improvvisamente orfana di entrambi i genitori ed è un vero shock, è proprio un trauma. Certo ha ancora sua sorella, ma Giuseppina è la più grande e non è semplice per nessuna delle due. Sono entrambe giovanissime e impreparate, oltre che traumatizzate. Non succede spesso di perdere entrambi i genitori a distanza di 52 giorni l'una dall'altro e di vederli spegnere in preda ad un'atroce sofferenza. È un destino crudele per tutti, un accanimento. Giuseppina sperimenta un senso di vuoto, di paura, di incertezza. Inizia a fare un bilancio della propria vita e sente a soli 21 anni di essere arrivata come in fondo alla sua esistenza, perché la perdita di entrambi i genitori le pone dei grandi interrogativi. Innanzitutto l'interrogativo di sopravvivere e di badare a se stessa nel mondo da sola. Ricominciare è molto dura e nel caso di Giuseppina lei si chiude per carattere a riccio. Il mondo diventa un posto pericoloso e cattivo. C'è un allarme rosso che lampeggia nel suo cervello ed è sempre uno, attenzione, pericolo. Giuseppina infatti sente di aver già sofferto troppo, anche per due vite, non soltanto per una, e di non avere le forze per poter sopportare altre delusioni. Manifesta da qui un carattere molto chiuso, una paura generalizzata verso il mondo e verso le persone. Vive alla giornata e preferisce di gran lunga restare da sola per timore di soffrire. È spesso anche aggressiva, proprio per tenere le persone alla larga da lei, ma non ci riesce molto bene. Ha un carattere astioso, definiamolo così, ma capisci bene se la incontri che non è cattiva, piuttosto ne percepisci un'enorme sofferenza e paura che ti fa scatturire dal cuore tenerezza. Ed è qui, in questa condizione piena di cicatrici e ferite, che torniamo all'inizio della nostra storia, dove Giuseppina incontra Mario a Bologna e decide di aprire la porta a lui e alla sua famiglia, perché lei è sostanzialmente sola al mondo. L'incontro con Mario, lei lo vede come un regalo, un bel regalo che la vita le fa, qualcosa che lei è dovuto e che quindi, per forza di cose, deve funzionare. Quindi, riversa su questo rapporto tantissime aspettative e il fallimento non è contemplato. Ma chi è Mario, il futuro marito di Giuseppina? Allora, Mario è un giovane figlio di operai, bolognese, lavora nel settore edilizio ed è un lavoro molto faticoso, in cui però lui riesce bene, seppur abbia bisogno di trattamenti frequenti, appunto, per sciogliere i muscoli. E così conosce Giuseppina. A differenza di Giuseppina, Mario ha una famiglia d'origine a cui è legatissimo, in particolare con suo padre, un uomo dalla personalità e dalla fisicità imponente. Il padre di Mario è un personaggio impositivo. Da giovane è stato un grande campione di lotta greco-romana. Ancora ora in età avanzata, ha una tale prestanza fisica che la sera lavora come butta fuori nelle discoteche di Bologna. È un tipo deciso, poco incline alla mediazione, ma piuttosto a dettare legge, a decidere come fare e quando fare qualcosa. Mario e suo padre sono entrambi due sportivi. Il primo predilige le gare di moto, il secondo appunto la lotta. E così Giuseppina entra a far parte di questo mondo e di questa famiglia, chiaramente. Giuseppina e Mario vanno ben presto a convivere a casa di lui, ma per il padre non è abbastanza. Quindi decide di costruire una casa poco distante dalla sua, un regalo per suo figlio e sua nuora, e di farlo con le sue stesse mani. Un'abitazione grande e bella di cui essere fiero, in primis è lui e poi tutti gli altri, chiaramente. Progetta tutto il suocero di Giuseppina, mattone dopo mattone, erge una villa enorme, il suo grande lascito per il figlio. Una villa di 400 metri quadri, in cui tutta la famiglia di Mario riversa un grande investimento economico ed emotivo. È un po' la missione del padre di Mario, lo sforzo di un'intera vita e il coronamento di un sogno. Giuseppina sente di essere approdata finalmente in un porto sicuro, che inizia a chiamare a casa, e qui mette al mondo una bambina. Dopo la nascita, inoltre, predispone una stanza per fare i massaggi e riprende a lavorare. Non guadagna moltissimo da questa attività come massaggiatrice, quindi decide anche di iniziare a cucire, che è una sua grande passione, purché lo faccia in casa, quindi nel suo regno, con la sua bambina. Ha un marito che ama, una stupenda bambina, si è adattata con il lavoro, una casa fantastica, è felice, sono felici. E decidono, infatti, che oltre a convivere, vogliono divenire marito e moglie. È davvero innamorata Giuseppina, e si sposano quando la bimba compie un anno. Sembra tutto perfetto. E Giuseppina pare gioiosa, perché tutto quello che ha sempre desiderato, sempre sognato, è lì a portata di mano. I primi anni sono per lei davvero una gioia, una cura del cuore e dell'anima, un balsamo dopo tanti anni di solitudine. Ma purtroppo, se no non saremmo sul mio canale, questa felicità non dura molto. Accade un evento che determina un pochino tutto il corso delle cose. Mario ha un brutto incidente con la moto, si lesiona una spalla, e da lì non è più in grado di lavorare, di lavorare come manovale. Si deve, in sostanza, reinventare, e quindi decide di aprire un'attività commerciale insolita, cioè un sexy shop a Bologna. Ma Giuseppina non è affatto d'accordo. Trova questo lavoro sopra le righe e ha timore che questa scelta del marito ricada su sua figlia in qualche modo. Teme in particolare una fetta di clientela che Mario frequenta, e quindi cerca in tutti i modi di convincerlo a cambiare lavoro, ma lui è rimovibile. Anzi, in realtà, più lei fa così, più lui si intestardisce. Mario lo ritiene un lavoro come un altro, anche se poi in realtà lo allontanerà davvero dalla sua famiglia. In casa l'assetto cambia, le liti si stratificano. Giuseppina in cuor suo non riesce proprio ad accettare e a capire come l'uomo che ha sposato abbia voglia di gestire proprio quel tipo di attività. In realtà pare che Giuseppina non avesse delle opposizioni marcatamente moraliste o bigotte, ma è convinta davvero che quell'attività possa nuocere alla famiglia, ma soprattutto alla bambina. Mario inizia a passare sempre più tempo fuori casa, perché il sexy shop lo assorbe tantissimo. Ha una clientela da curare, una clientela a volte anche piuttosto esigente, e quindi è un via vai di gente, non soltanto al negozio ma anche a casa. E a un certo punto Giuseppina inizia anche a pensare che il marito la tradisca. Trova un messaggio su un telefonino, un messaggino sospetto, quando chiama risponde una donna, ma quando lei affronta il marito lui nega. Lei però è sempre più arrabbiata, la situazione sta sfuggendo di mano e lei non si dà pace. Giuseppina detesta quello che Mario fa e a un certo punto non riesce più a vedere altro, cioè c'è soltanto quello. Non sopporta inoltre che lui possa tradirla e ne è convinta. Mario alla fine si dimostra molto diverso dal compagno che ha scelto e che ha incontrato. È sempre più morboso e ossessionato da questo lavoro che diventa il centro dei suoi pensieri e non è disposto a sacrificarlo per salvare la sua famiglia. Quindi diventano due stranei in tutti i sensi e alla fine decidono di separarsi consensualmente. Si accordano in particolare sul fatto che Giuseppina e la figlia possano rimanere a vivere nella loro casa. Quindi cosa avviene? A Giuseppina è assegnata la casa coniugale e a Mario la tavernetta al piano inferiore. Però la tavernetta dovrà essere usata soltanto come deposito per il lavoro. In realtà Mario da subito si stabilisce lì in tavernetta e la trasforma nella sua casa. Quindi cosa avviene? I due sono sempre nella stessa casa e li separa soltanto un piano ed è una situazione non semplice per nulla. Anzi diviene una situazione ancora peggiore di quando vivevano insieme perché si scontrano per ogni cosa. È un litigio continuo e la famiglia di Mario inizia di intromettersi e a rendere tutto ancora più insopportabile. Il padre di Mario non accetta che sia sua nuora a vivere in quella casa e non gli importa molto del fatto che di mezzo ci sia una bambina molto piccola perché quella casa appartiene alle sue mani alla sua famiglia l'ha costruita lui con il suo sudore con i risparmi di una vita e un'estrania se la sta godendo. Tutta la famiglia di Mario quindi diviene sempre più ostile verso questa appendice familiare che vorrebbero soltanto tagliare via che non riconoscono come parte di loro. Però non possono farlo perché un tribunale ha parlato. Giuseppina dal canto suo non rende le cose semplici perché non molla e al tempo stesso rimane attaccata attenacemente a quella situazione anche familiare come se desiderasse in qualche modo di ritornare con suo marito. È ancora legata a Mario quindi soffre tanto per lui soprattutto quando Mario si mostra con altre donne all'esterno della casa l'incontro in macchina all'ingresso della tavernetta e per Giuseppina è una vera sofferenza. È molto gelosa e soprattutto soffre dell'indifferenza di quello che era suo marito perché Mario non la degna di un'occhiata è come se tutto l'affetto e l'amore provato per quella donna e per la madre di sua figlia fosse stato improvvisamente spazzato via. Quella casa diviene ben presto una trincea di guerra l'oggetto della grande contesa. Giuseppina soffre moltissimo soffre di aver perso ancora una volta la sua famiglia e Mario pur conoscendo le sue fragilità la sua storia familiare il suo enorme bisogno di affetto non si fa alcuno scrupolo a sbatterli in faccia donne e indifferenza. La vita familiare diventa un inferno fatto di vere e proprie persecuzioni ai danni di Giuseppina. Ad esempio Mario le stacca la caldaia il riscaldamento le luci per poi farla scendere in taverna dove ci sono i contatori e lei pur di non scendere rimane al freddo con sua figlia oppure a lume di candela tutto per non vederlo e non litigare con lui. Quindi lei arriva ad aver paura di chiedergli di riaccendere i contatori e lui sta di sotto ad aspettarla. Una situazione abbastanza drammatica direi. Quella casa diviene un luogo scuro dove prima c'era famiglie calore ora c'è soltanto tristezza e disperazione. Giuseppina inizia a vivere arroccata in quella casa come in un fortino e lui da sotto controlla chi va da lei e lei non si sente libera di fare alcunché. Formalmente è la segnataria della casa ma alla fine continua ad essere un ospite. Non ne può disporre e inoltre sente su di sé la morsa che l'intera famiglia dell'ex marito stringe su di lei. Il fatto poi che Mario viva al piano inferiore la fa sentire come se lui fosse ancora in casa con lei a due passi perché lo sente muoversi lo sente parlare e respirare ma non è più suo marito è sempre più un estraneo dalle fattezze malevole. Come se non bastasse il curtile della villetta di uso comune qui via il cane di Mario ed ecco che con la scusa di andare dal cane per farlo mangiare il suo acero di Giuseppina inizia a essere sempre più spesso nei dintorni di casa sua. Vogliono tutti accudirlo questo cane improvvisamente e lei si sente accerchiata perché sono visite che alla fine sfociano sempre in conflitti il suo acero non si fa alcun problema lui sta solo esercitando un suo diritto e anche quando questo diritto verrà poi tolto dal tribunale comunque la famiglia di Mario continua ad andare a casa di Giuseppina come se nulla fosse le fanno tutti la voce grossa non la tengono minimamente in considerazione ogni giorno sono atti intimidatori nei suoi confronti e Giuseppina sa benissimo che il fatto di portare tutti i giorni più volte da mangiare al cane sia un modo del suo acero in particolare di controllarla ormai l'uomo da butta fuori prestante anche se in età avanzata si è trasformato in un uomo malato che soffre di un grave infisema polmonare ma comunque ha una gran verde cioè si reca puntuale in giardino con il respiratore artificiale Giuseppina si sente davvero perseguitata perseguitata in casa sua e piano piano ha paura addirittura di avere delle micro spie piazzate dentro non riesce a cambiare le serrature perché sono serrature molto costose e particolari e non ha soldi per questo investimento inizia a notare che in casa alcune cose sono spostate e quindi si convince che qualcuno entri con una copia delle chiavi quando lei non c'è è convinta che tutto questo risentimento che ogni giorno sta crescendo nei suoi confronti la voglia spingere in sostanza fuori da quella casa spontaneamente perché il tribunale è deciso e contro quello nulla può la famiglia di Mario ma in tutto questo io più che altro mi sono domandata una cosa è possibile che nemmeno la presenza della bambina la figlia di Mario e la nipote di questi due suoceri insomma di questa famiglia li abbia fatti desistere da questo atteggiamento bellicoso a quanto pare no per tutti Giuseppina non è bolognese e quasi nemmeno italiana perché figlia di emigrati andati in Svizzera è nata in Svizzera e quindi viene chiamata da tutti la Svizzera lei non ha contatti non ha parenti vicini non ha amici non sa dove andare e non ha soldi ha quella casa e a quella si attacca soprattutto perché crede che sia giusto per sua figlia Giuseppina ad un certo punto si affida ad un'avvocatessa una donna che diventa per lei l'unico punto di riferimento spiegata la situazione piuttosto tesa decidono di richiedere l'assegnazione della villetta totalmente a lei e nel frattempo Giuseppina cerca anche un lavoro ma non è semplice non può andare in affitto nemmeno se lo volesse perché non ha in sostanza i soldi nessuno le tiene la bambina quando lavora o quando ad esempio la bambina è ammalata e lei ha bisogno di lavorare e la famiglia di Mario si presta soltanto nei giorni stabiliti dal giudice ha inoltre un assegno di mantenimento irrisorio di 200 euro quindi non è molto facile trovare un altro luogo dove andare in effetti trova un lavoro part-time che è l'unico che possa permettersi da madre sostanzialmente sola e va a lavorare come cuoca nella caserma dei vigili del fuoco si trova molto bene le piace cucinare e riceve tantissimi complimenti ma lo stipendio rimane comunque molto basso tutto quello che guadagna è per la sua piccola per lei non tiene davvero nulla finalmente arriva la modifica delle condizioni della separazione e la villetta viene assegnata tutta a lei perché il tribunale decide che questa coabitazione forzata con il marito e la famiglia di lui sia davvero molto tossica soprattutto per la bambina che va tutelata quindi cosa cambia che nessuno può entrare in casa e nel giardino senza che sia lei ad autorizzarlo e Mario si stabilisce a fianco a casa dei suoi genitori e chiaramente i rapporti sono ancora più tesi di prima pensate che quando l'ufficiale giudiziario si recca nella taverna per lo sgombero del locale si accorge di una cosa stranissima le porte interne le plafoniere i rubinetti del gas e tutto quello che ha il piano di sotto è stato smontato lo smontabile è stato smontato proprio per rendere quella zona comunque inservibile successivamente Mario dovrà restituire ogni cosa ma insomma è un atteggiamento davvero preoccupante è chiaro che questa situazione non può portare a nulla di buono e Giuseppina dovrebbe andarsene liti e minacce sono continue e anche la famiglia di Giuseppina in Veneto inizia ad essere finalmente preoccupata loro invitano molte volte a questo punto Giuseppina a trasferirsi da loro le offrono un alloggio e una mano affinché possa sistemarsi e avviarsi anche con un lavoro in particolare Antonio uno zio di Giuseppina le trova un lavoro nella ristorazione e poi le cercano anche un'abitazione quindi riceve molto sostegno da parte della sua famiglia anche sua sorella si fa in quattro per lei quindi questo è un punto che sapete che io non sono sempre per giustificare le vittime o comunque ci sono degli aspetti che vi riporto esattamente come sono anche se magari giocano a sfavore dell'immagine di una vittima perché Giuseppina ha avuto la possibilità di togliersi da quel contesto ma ha deciso di non farlo perché? perché Giuseppina ormai è entrata in una sorta di loop pericoloso e non riesce a staccarsi da quella situazione non vuole assolutamente andare via e non è lucida perché è travolta da paure angoscianti intanto resta attaccata a quell'idea di famiglia che non esiste più a quel marito che non la vuole più e teme soprattutto che sua figlia le venga portata via e affidata al marito e alla famiglia di lui perché? perché loro hanno una casa hanno soldi hanno uno spazio sicuro lei non ha nulla immagina suo marito riappropriarsi di quella casa stabilirsi lì con la sua nuova compagna con la sua donna e insieme crescere sua figlia lei verrà ancora gettata scartata e abbandonata e questa è la paura che ha la paura di fare questo salto quindi fa una cosa molto semplice rimane lì rimane lì proprio conficcata con le unghie in quella situazione decide che la mossa più sicura è quella di non fare nulla di non esporsi di lasciare che le cose seguano il loro corso la figlia è il suo unico e costante pensiero ed è disposta a sacrificare tutto per lei nel frattempo il suocero di Giuseppina è sempre più agguerrito inizia ad aggirarsi sotto casa anche di notte alle 4 del mattino una volta Giuseppina lo vede nel cortile di casa e si spaventa moltissimo c'è un anziano di 70 anni tra l'altro gravemente ammalato che è talmente disturbato dai suoi pensieri ossessivi nei confronti di quella nuora che tanto odia di quella casa che addirittura va sotto casa sua alle 4 del mattino una mattina poi trova la sua macchina manomessa hanno infilato della stoffa del puliterano espanso nel tubo di scappamento quindi la sticella si sta alzando in maniera chiara Giuseppina chiama i carabinieri ma non ci sono prove su chi abbia fatto questo e quindi prendono solo nota del fatto è un escalation perché i segnali stanno diventando sempre più sfacciati ma lei non riesce comunque ad andare via e rimane lì impantanata non ci riesce a un certo punto inizia a temere addirittura per la sua vita e nonostante questo non fa il salto è sola e fragile e non si sta rendendo conto che il gioco ormai non vale più la candela ciò che sta offrendo a sua figlia oltretutto non è buona cosa la bambina ha bisogno di lei ma soprattutto di un ambiente sano in cui vivere Giuseppina arriva a fare testamento ma non accetta aiuto la famiglia le chiede ogni giorno di andare via di tornare in Veneto di mandare tutto a quel paese ma Giuseppina è incapace di reagire è arroccata in quel fortino che le dà solo uno straccio di sicurezza ma a quale prezzo eppure è convinta che cedendo quella casa lei perderà ogni cosa non si sente di affrontare ancora una volta il mondo fuori sente di aver già dato piuttosto è decisa a restare lì in baglia degli eventi perché di meglio non è in grado di fare però decide che una carta da giocare ce l'ha quella che le ha sempre dato dei risultati ovvero la carta della legalità va in caserma e denuncia racconta ogni cosa le minacce le intimidazioni costanti quotidiane presenta cinque denunce contro la famiglia di Mario e quindi insomma fa un gesto comunque coraggioso portando all'attenzione una situazione davvero logora la famiglia di Mario ovviamente si incattivisce ancora di più e anche loro decidono di denunciare Giuseppina in uno sfogo davanti a tutti davanti ai carabinieri Giuseppina arriva a definirli di razza cattiva e questo fa infuriare il suocero questa cosa qui non gliela perdonerà mai Giuseppina inizia a pensare seriamente sempre di più che qualcuno possa farle davvero del male concreto in uno sfogo con la sorella le dice che crede che il suo tempo sia ormai finito e successivamente tenetevi forte le scrive una lettera di testamento nella lettera c'è scritto che dopo la sua morte la sua macchina dovrà essere donata alla sorella e il denaro del suo conto corrente è tutto quello che possiede la figlia nominando titolare la sorella che dovrà occuparsene e che dovrà occuparsi della figlia chiede inoltre che dopo la sua morte le sue ceneri vengano disperse nel terreno di suo marito sotto le querce di quella stessa casa in caso contrario date alla sorella che poi le disperderà cioè rendiamoci un attimo conto della situazione facciamo un attimo pausa Giuseppina ha 40 anni si è separata è una madre di una bambina piccola e è arrivata al punto di chiedere alla sua sorella di spargere le sue ceneri sotto le querce di quella casa perché è sicura di essere destinata ad una morte violenta e prematura e tutto per dei rancori legati al possesso di una casa non è assolutamente accettabile una cosa così andava aiutata io non so in che modo ma questa donna andava aiutata la sorella si precipita da lei per capire quanto sia grave questa situazione e si accorge che Giuseppina ha uno stato emotivo alterato la supplica di seguirla ma lei ancora una volta rifiuta e le consegna questo testamento non ci sono giudizi da parte mia verso la sorella o la famiglia di Giuseppina sia chiaro io non ho vissuto questa vita queste cose quindi non giudico lei è certa che suo marito non aspetti altro e che si opporrà al trasferimento della bambina in Veneto non sente ragioni e nemmeno ragiona più in maniera lucida c'è da dire le sue paure sono divenute abnormi e la stanno schiacciando lo zio Antonio anche l'avvocatessa continuano a pregarla di ripensarci di uscirne fuori ormai siamo andati oltre Giuseppina ormai la casa non conta più non conta più nulla ma nessuno ascolta la voce della ragione né Giuseppina né Mario né la sua famiglia in questo frangente qui Mario telefona alla sorella di Giuseppina Alessandra loro non parlano mai non si chiamano mai quindi lei è molto sorpresa inizialmente pensa che a Giuseppina si è accaduto qualcosa di brutto ma lui le dice tua sorella continua con gli avvocati noi siamo stanchi e stufi mio padre soprattutto non ne può più riesci a capire cosa ti voglio dire mi farebbe un regalo mio padre perché noi non ne possiamo più è domenica 8 ottobre del 2006 è mattina Giuseppina sta finendo le faccende per poi andare a lavorare perché è di turno alla mensa alle 9 Mario passa a prendere la bambina perché è il suo giorno di visita un quarto d'ora dopo anche il suo acero esce e si reca anche lui alla villetta della nuora lei ha appena salutato sua figlia sta spolverando quando lo vede sbucare nel suo cortile all'improvviso sono le ore 9 e un quarto e qui cala il silenzio non sappiamo bene che cosa sia accaduto tra questa donna di 40 anni e quest'uomo di 70 malato e malandato ma animato da una tempra e da un livore inarginabile la ricostruzione stabilisce che tra i due scoppia l'ennesima lite e che a un certo punto il suo acero si stacca il respiratore perché la bombola gli intralcia i movimenti e lo lascia fuori in cortile finiscono dentro forse lui ha una coppia delle chiavi e si intruffola dentro comunque la rincorre dentro la lite prosegue ma inizia a degenerare presentemente l'uomo sembra tornato un ragazzino perché compie degli sforzi fisici impossibili nel suo stato impazzisce tutto quel concentrato di tensione esplode e lui le mette le mani al collo e la strangola a mani nude esce raccoglie la bombola si la rimette prende ossigeno e con essa va direttamente alla caserma dove si costituisce appena privato sua nipote della madre sono appena le 9.30 del mattino quando il maresciallo rimane sconvolto e fa anche molto bene perché conosce Giuseppina che nell'ultimo periodo ha querelato cinque volte la famiglia del marito il suocero e proprio quello stesso suocero ora è lì ad ammettere di averle tolto la vita ma non è sconvolto non è agitato il suocero si siede e con freddezza e lucidità racconta la sua versione si è recato alla villetta per prendere dei sacchi di sabbia che erano rimasti lì e che gli servivano Giuseppina però lo insulta appena lo vede e gli dice di andare via da casa sua questo lo fa impazzire Giuseppina si accorta subito di quanto l'uomo sia passato oltre e quindi cerca di rifugiarsi in casa ma inutilmente il suocero riesce ad entrare chiude la porta dietro di sé per impedirle di fuggire appena riesce a metterle le mani addosso lui la strangola subito tenendole premute le mani nel collo per circa sette minuti un tempo davvero molto lungo è un ex lotatore di lotta greco-romana quindi sa molto bene come immobilizzare come lottare e come sopraffare un antagonista Giuseppina non riesce a sfuggirgli lui la vuole davvero uccidere con ogni fibra del suo essere quando lei è cadavere lo racconta lui non perde il controllo anzi le passa un piede sopra la faccia schiacciando per verificare chi non si muova più la guarda un'ultima volta e gli dice mi fai schifo le gazele partono a sirene spiegate verso la villetta ma purtroppo il racconto dell'uomo è veritiero a terra in quella casa tanto amata e tanto odiata c'è una giovane donna di 40 anni una madre deceduta il suocero viene posto in stato di fermo e contattano sia la famiglia di Giuseppina che Mario la famiglia di Giuseppina se lo aspettava e per loro non è stato affatto un delitto di ira come il suocero ha raccontato non è stato un fulmine a ciel sereno ma è stata un'esecuzione annunciata e programmata avrete sentito sicuramente parlare di quella abominio che è il delitto d'onore lo chiamano così che è perpetrato in diverse zone e ad oggi soprattutto nei paesi arabi questo ricorda proprio un delitto d'onore che chiaramente con l'onore non ha nulla a che fare anzi rappresenta il disonore totale di una società che uccide le proprie madri le proprie figlie le proprie mogli con le proprie mani e che ha giustificato nel farlo perché questo sembrerebbe un delitto programmato e maturato all'interno della famiglia condiviso accettato ok perché Mario porta via quella bambina e 15 minuti dopo il padre esegue ancora una volta nella sua mentalità quest'uomo si immola per la sua famiglia si sacrifica perché è stato lui a compiere il delitto e sarà solo lui a dover pagare ma intanto ha assicurato a suo figlio una vita diversa ha liberato la sua proprietà da quella impostora quell'usurpatrice è una freddezza assoluta che come vi ho detto non è piena di di violenza fisica ma che è davvero devastante cioè a me questa storia mi ha veramente scioccata lui si stacca la macchina dell'ossigeno per essere fluido con i movimenti a solo 10-15 minuti di autonomia pensate per arrivare all'obiettivo e neutralizzarlo prima che vada in affanno prima che abbia bisogno di prendere aria le indagini sono brevi alla fine gli inquirenti decidono di fermarsi solo al suo acero perché non hanno altre prove quindi lui è il colpevole e lui ha confessato la famiglia di Giuseppina è molto insoddisfatta avrebbe voluto che si scavasse maggiormente per capire che cosa ci fosse davvero dietro a questa morte ok dopo la sua morte Giuseppina viene portata in obitorio e lì viene raggiunta da quelle poche amiche che aveva loro cercano di sistemarla di allestire la camera ardente per lei quando vanno a casa sua pensate non trovano nemmeno un vestito che sia adatto allo scopo lei ha soltanto delle tute dei vestiti lisi rovinati perché era così povera da non potersi concedere nemmeno uno sfizio o qualcosa di diverso tutto quello che guadagnava era per sua figlia e per le spese che doveva sostenere gli amiche escono e vanno a comprarle un abito il più bell'abito che faccia pensare a lei la vestono con cura e questa è una delle cose davvero emotivamente più tristi a cui loro abbiano mai assistito e anche che io abbia mai sentito come scena ecco al funerale si percepiscono ancora queste due fazioni ci sono poche persone da un lato la famiglia di Giuseppina le poche amiche che lei ha il suo avvocato dall'altro Mario è un funerale davvero triste e ok i funerali sono sempre tristi ma quello di Giuseppina è ho cercato un termine proprio annichilente ok non ho trovato un altro termine per definirlo non ci sono fiori non c'è calore umano c'è una donna che da tanto tempo era già morta dentro trincerata dentro una profonda paura e disperazione quel giorno le amiche di Giuseppina racconteranno di essere tornate a casa con il freddo dentro era una giornata molto fredda dicono ma non era quel genere di freddo lì l'unica luce l'unico calore di questa donna era il viso della sua bambina ma le hanno spento gli occhi le hanno impedito di vederla crescere di vedere ancora quella luce per sempre e perché cosa il suo acero di Giuseppina viene condannato a 15 anni di reclusione ma per età e per patologia non sconta un giorno in carcere torna a casa sua agli arresti domiciliari e conclude la sua vita e c'è il caso di dire che torna a casa sua più libero di prima perché non ha più pensieri e perché non ha più preoccupazioni per quella casa Mario è tornato a vivere nella casa dove la madre di sua figlia e sua moglie la sua ex moglie è stata barbaramente uccisa da suo padre ed è andato avanti Giuseppina non deve essere stata una persona semplice in vita ma desiderava cose semplici e soprattutto sognava un amore e un affetto di cui sentiva di avere un disperato bisogno è morta sola disperata schifata disprezzata e a soli 40 anni riposa in una bara sicuramente se dobbiamo parlare di colpi la sua più grande colpa è quella di non aver avuto abbastanza forza per andare avanti per aver continuato a cercare del calore in un luogo desertificato dove per lei non c'era davvero più nulla doveva essere sicuramente aiutata fin da quei suoi 21 anni per colmare con magari una terapia psicologica una psicoterapia questo vuoto incolmabile sarebbe stata magari una donna più forte più resiliente capace anche di prendere in mano la sua vita comunque non ne ha comunque chiaramente Giuseppina non ha colpe per ciò che le è successo è stata uccisa questa può essere la sua unica colpa chiaramente non una colpa che giustifica ciò che le è accaduto ma preferisco non parlare di colpe preferisco semplicemente ricordarla avevo ragione quando vi ho detto che è una storia veramente molto triste fatemelo sapere nei commenti non è una storia con grandi picchi di violenza di orrore indescrivibile però è davvero una storia emotivamente devastante pensare a cosa abbia passato questa donna come sempre noi ci vediamo ogni martedì alle ore 20 vi aspetto